E sarà sì in turno, ostia, ma no in negozio, e sarà in turno a battare quei puttane, maledetto vecchio pensionato. Culattone ti sarà a ti, e che è il mongoloide della braghetta, mudanda, scarsea, bermuda, dove c'è nassi, marsi, tutti i due, del remengo. Mmmmm, ma perché ti fai auguri adesso? Ma non ti ho sa che porta sfiga, ma no perché ti sei un vecchiaso, maledetto, non ti capisci più un caso ormai.